Il corso di laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio si configura come prosecuzione di un percorso formativo iniziato con una laurea triennale in ingegneria civile o ambientale. L'obiettivo è formare figure professionali con competenze nell'ambito del controllo dell'ambiente e del territorio, della difesa del suolo, del trattamento delle acque reflue e dei rifiuti di varia origine e della tutela delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche. Durante gli studi si può partecipare a seminari, workshop di progettazione e svolgere periodi all'estero nell'ambito dei numerosi progetti di cooperazione internazionale e attraverso Scambi Erasmus.